Dopo quello dello scorso gennaio che portò in carcere un giovane imolese 23enne col sequestro di 54 kg di sostanze stupefacenti, la polizia di Imola ha arrestato una donna italiana di 26 anni e due albanesi di 24 e 25 anni. I tre avevano colmato il vuoto avvenuto a inizio anno per rifornire la piazza imolese e le città vicine di marijuana. Nel baule della vettura della donna, bloccata lunedì mattina tra Imola e Riolo Terme, sono stati trovati quasi 33 kg di sostanza che sul mercato avrebbero fruttato una cifra compresa tra i 150 e i 180 mila euro. A farle da staffetta c'era l'auto dei due albanesi, ma le loro precauzioni non hanno impedito agli agenti di riuscire a fermarli, cogliendoli di sorpresa. Le indagini, coordinate dal PM Michele Martorelli della Procura di Bologna, erano già partite da alcuni mesi per individuare il nuovo canale di spaccio e sono state rese difficili in quanto il trio, non aveva precedenti. I giovani sono ora in carcere con l'accusa di detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'ingente quantità. Sicuramente un'ingente di una sostanza di droga, di sostanza stupefacente, noi definiamo entry level, quindi di facile spaccio sulla piazza e riteniamo che l'importanza di questa operazione è determinata non soltanto dal fatto della quantità in sé, ma anche dal fatto che una piazza come Imola sicuramente non era in grado di poter assorbire tutta questa sostanza stupefacente.